Lamin oggi la presentazione qui a Sanremo oggi anche il primo allenamento insomma le tue prime sensazioni con la maglia della Sanremesa allora le prime sensazioni sono molto buone positivo perché sin dall'inizio mi sono sempre trovato bene dal primo giorno che sono arrivato mi sono trovato bene con i compagni con l'ambiente con la società e queste sono le cose più importanti comunque positivo la sensazione. Domenica una grande accoglienza qui allo stadio eri in tribuna a vedere la Sanremese che impressione ti ha fatto la squadra? La impressione è sempre quello buonissimo perché ho visto quello che aspettavo quello che aspettavo da una squadra che ho già conosciuto una squadra che ho sempre seguito perché seguivo questo girone e conosco alcuni giocatori quindi mi hanno fatto divertire ho visto una grande squadra soprattutto lo spirito della squadra. Domenica hai visto anche il pubblico e i tifosi entusiasti per questa Sanremese che adesso è capolista nel girone un messaggio per loro? Il messaggio è sempre questo che noi faremo tutto di arrivare fino in fondo a vincere il campionato è quello l'obiettivo come sappiamo che i tifosi sono sempre quelli primi che non vogliono mollare niente e noi non molliamo neanche un centimetro per loro. Daniel oggi la presentazione con la maglia della Sanremese domenica hai già esordito le tue prime sensazioni non soltanto in allenamento ma anche in partita? No innanzitutto per me è stata una partita fondamentale perché l'esordio è sempre sentita la partita che sento sempre più di tutti e poi più che altro con questa squadra e diciamo che sono stato davvero contento perché c'è stata una coreografia di pubblico che è stata veramente bellissima mi sembrava di essere una categoria superiore e noi dobbiamo solamente lavorare a testa bassa giorno per giorno per raggiungere il nostro obiettivo e far felici anche i nostri tifosi. Il ruolo del portiere è molto delicato tu sei giovane ma vieni da un'esperienza nella quale hai già vinto un campionato di Serie D senti su di te la responsabilità? No no io non c'ho nessuna responsabilità perché il mio obiettivo è quello di dare sicurezza al reparto difensivo e tutta la squadra parlare sempre e il ruolo del portiere lo conoscono tutti che è quello più difficile perché un gol sbagliato puoi far perdere la partita ma puoi fare anche vincere le partite e il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo giorno per giorno per raggiungere il nostro obiettivo finale. Ecco domenica esordito in casa hai visto anche i tifosi e l'attaccamento che hanno a questa squadra e questa maglia un messaggio per loro? Sì innanzitutto di seguirci sempre che noi daremo l'anima per voi che domenica siete stati veramente fantastici sinceramente non mi aspettavo una collenza del genere veramente bellissimi una categoria superiore come già detto prima e spero davvero di dare l'anima per voi per vincere questo campionato